Buongiorno a tutti e ben ritrovati per un'altra stagione di TRG Notizie. Come di consueto daremo spazio alla riflessione di Don Arturo, lettura poi del calendario liturgico e degli avvisi della parrocchia. Chiudiamo con l'argomento a scuola e con il primo appuntamento della stagione teatrale 2020-2021 di sabato 26 settembre. Buona visione! Cari amici, dopo la pausa estiva eccoci ancora insieme sulle onde del nostro TRG, nel notiziario che avvia anche per questo nuovo anno pastorale il nostro incontro settimanale. Vi ringrazio di cuore per la vostra partecipazione a questo modo per me molto bello e importante di mantenerci in stretto contatto anche sui social, a riflettere su quello che la cronaca ci riporta di settimana in settimana. Entro subito in merito, ricordandovi che ci sono notizie che non si vorrebbero mai dare, o almeno il più tardi possibile, che se da una parte portano gioia, dall'altra fanno veramente soffrire. E quanto vi comunico leggendo con voi la lettera che Don Alfredo Savoldi, vicario episcopale della Bassa Bresciana, ci scrive. Carissimi fedeli della parrocchia dei santi Pietro e Paolo in Gottolengo, a nome del Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Pierantonio Tremolada, vengo a voi per trasmettervi un'importante comunicazione riguardante Don Luca Lorini, dal 2009 vicario parrocchiale presso la vostra parrocchia. È intenzione del Vescovo affidare a lui un nuovo incarico e precisamente nominarlo parroco della parrocchia della Santissima Trinità in Brescia. Il Vescovo lo ringrazia per aver accolto il suo invito, davvero gli è molto grato. A Don Luca, che bene ha operato tra di voi, Monsignor Vescovo esprime tutta la sua riconoscenza, chiedendovi di accompagnarlo con la vostra preghiera. Il Vescovo invoca su di lui, su tutti voi, di cuore la benedizione del Signore e a lui chiede di accompagnarvi in questo nuovo tratto di cammino. Assicura la sua personale vicinanza e affettuosa preghiera. Il Signore chiede a Don Luca, vieni più in alto e non solo per la posizione geografica di Brescia rispetto a Gottolengo, soprattutto perché egli viene promosso parroco, portato in alto, in su. A lui viene affidato un campo di apostolato delicato e importante, come la responsabilità di una parrocchia. Siamo sicuri che saprà coltivare ed esprimere benissimo le sue virtù, le sue qualità, di sacerdote ma ancora di giovane, come ci ha dimostrato in questi undici anni. Avevo più volte manifestato al Vescovo il desiderio e anche l'opportunità che Don Luca potesse continuare a rimanere ancora tra noi. Ora però egli è prezioso altrove. Ci dispiace tanto per la sua partenza, ma sono contento perché egli dice sì alla chiamata del Signore, ben sapendo che il sogno di Dio su di lui è bello, è grande. Avremo modo di esprimergli la nostra riconoscenza e il nostro affetto. Ho espresso ai superiori la necessità di un nuovo curato per la nostra comunità. Mi hanno ascoltato con attenzione e certamente prenderanno decisioni che saranno secondo la volontà del Signore. Intanto, come ci ha raccomandato il Vescovo, intensifichiamo la preghiera per Don Luca nella certezza che egli farà lo stesso per tutti noi. Vi ringrazio e vi saluto con l'augurio di una serena domenica e di una buona settimana. Arrivederci. Mercoledì. Mercoledì 23 settembre, San Pio da Pietralcina, in oratorio alle 8, Santa Messa per il defunto Marina Anselmo. Presso il Parco Padre Pio, alle 17, Santa Messa per la defunta Doninelli Luigina. Giovedì 24 settembre, in oratorio alle 8, Santa Messa per la defunta Elisa Dama. Venerdì 25 settembre, in oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti Palmira, Angelo e Stefano. Alle 15, coroncina della Divina Misericordia. Al cimitero, alle 18 e 30, Santa Messa per i defunti Pietro Zini, Famiglia da Froso, Luisa, Irene, Pietro e Armando. Sabato 26 settembre, in oratorio alle 18 e 30, Santa Messa per i defunti Bellini Maria, Chiesa Giuseppina, Cristanelli Antonio. Alle 20 e 30, Santa Messa pro popolo. Confessioni presso la chiesa dell'oratorio, dalle 9 alle 11. Domenica 27 settembre, in oratorio alle 8, Santa Messa per i defunti Lucini Alfredo e Morelli Maria. Alle 10, Santa Messa per i defunti Giuseppe, Assunta, Natalina, Graziella, Nicola e Luigi e Teresa. Alle 11, Battesimo di Zacco Isabel. Alle 11 e 30, Milzani Edoardo. Domenica 20 settembre, alle 20, in oratorio, incontro bambini e genitori del quinto anno, prima media. Mercoledì 23 settembre, alle ore 15, Bella Età, presentazione incontri autunnali e tombolata. Offerte per restauro chiesa parrocchiale, agosto e settembre 2020. Da famiglie, 1000 euro. Da una famiglia, 100.000 euro. Da Mast SRL, 1000 euro. Raccolta secondo di agosto, 2.293,12, raccolta seconda di settembre, 3.295,82 euro, per un totale di 108.588,94 euro. Domenica 27 settembre, alle ore 10.45, visita alla chiesa parrocchiale. Apertura cortile oratorio. L'unodì pomeriggio chiuso, martedì dalle 15 alle 18 aperto, mercoledì dalle 15 alle 18 aperto, giovedì dalle 15 alle 18 aperto, venerdì dalle 15 alle 18 aperto, sabato chiuso. Domenica, dalle ore 15 alle ore 22, il bar è aperto. Mercoledì 23 settembre, alle 18, si terrà la riunione del Consiglio Comunale di Cottolengo. Ordine del giorno. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente del 30 giugno 2020. Ratifica deliberazione numero 130 del 31 luglio 2020 riguardante variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Ratifica deliberazione numero 153 del 9 settembre 2020 riguardante variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e regolamento per l'applicazione della tassa su rifiuti tari con approvazione. Riduzioni tributarie tassa rifiuti tari anno 2020 in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19. Documento unico di programmazione, periodo 2021-2023, discussione e conseguente deliberazione. La scuola. Ieri come oggi, senza eccezioni e con gli effetti del coronavirus, la scuola cattolica paritaria è un po' la cenerentola. Niente soldi per la scuola paritaria vuol dire rischiare di chiudere? I genitori riescono a pagare le rette? Oggi, con i suoi 140.000 lavoratori e un'utenza di circa 90.000 famiglie, la scuola paritaria, in prevalenza cattolica, è a rischio estinzione. La scuola cattolica è una realtà che ha fatto la storia dell'educazione nel nostro paese. Perché relegarla a scuola di serie B? Se è paritaria, la scuola è scuola, con gli stessi diritti e doveri. Facciamo un veloce passo indietro per capire come, a partire dal Medioevo, la società civile abbia beneficiato dell'opera educativa e culturale di tante diverse scuole cattoliche. Bastano due nomi, francescani e domenicani, per capire quanti carismi, quante diversità, quante libertà, quanti metodi educativi diversi abbiano caratterizzato gli istituti scolastici nati in passato nel nostro paese. Un arcobaleno di nomi familiari, di istituzioni nate nel Cinquecento e che sono giunte fino a noi, Gesuiti, Barnabiti, Scolopi. Una mappa di scuole che ha formato intere generazioni di giovani, non solo allo studio, ma anche al lavoro. Pensiamo ad esempio agli artigiannelli e ai salesiani. Tra Sette e Ottocento è ancora un fluire di nomi noti, Canossiane, Benedettine, Orsoline e tanti altri istituti femminili. Quando nel 1895 emetteva i primi vagiti la scuola statale, in quello stesso anno Don Bosco fondava quello straordinario modello educativo che è ancora oggi la scuola e le scuole salesiane. L'educazione è cosa del cuore, amava ripetere il santo, e come avrebbe potuto affidare i suoi ragazzi a uno stato laicista e anticlericale che l'aveva perseguitato in ogni modo? Una domanda che potremmo rifare oggi per i nostri figli. Non per niente un altro grande educatore, Don Luigi Giussani, negli anni Sessanta ripeteva profeticamente, Toglieteci tutto, fateci andare in giro nudi, ma non toglieteci la libertà di educare. Per il principio di sussidiarietà la scuola pubblica e quella paritaria dovrebbero concorrere a migliorarsi a vicenda. La scuola, per natura, deve essere ciò per cui è nata, libera aggregazione per una libera educazione e ricerca della verità. Non sarà certo questa emergenza sanitaria a cancellarla. Ci sarà sempre qualcuno, come un tempo Don Lorenzo Milani, che raccoglierà intorno a sé un manipolo di ragazzi per studiare, stare insieme, educare alla libertà. E magari di notte scrivere sui muri con la vernice bianca, viva la scuola! Riprende la stagione teatrale, sabato 26 alle ore 21, con un monologo di Claudio Pallottini e la regia di Marco Simeoli, dal titolo Il viaggio di Felicia, interpretato da Federica Berne. Il biglietto intero è di 8 euro e ridotto di 5 euro. Il viaggio di Felicia, di Federica Berne Felicia è una rumena, ma potrebbe essere di un qualsiasi altro paese dell'est, molto sognatrice e con i piedi poco piantati per terra. Con il visto turistico viene in Italia a Roma, con la certezza che trovare un lavoro sarà una barzelletta, così come diventare romana ed accettata. Ma la realtà è diversa. Il lavoro onesto è duro, mal pagato e spesso sfruttato, e c'è sempre qualcuno pronto a specularci sopra. Felicia ci racconta la sua storia con semplicità, senza accusare nessuno, senza rivendicare alcun diritto, senza rancore, ma anzi con leggerezza e ironia, grazie alla sua capacità di confondere e confondersi la realtà che vive con l'immaginazione e il sogno. I frutti della terra della bassa bresciana diventano deco e a Gottolengo non poteva mancare la sagra della patata, seppur in forma ridotta in una sola giornata, ma da anni appuntamento imperdibile per acquistare il tubero più buono e famoso, col marchio di denominazione comunale d'origine venduto dai contadini che ancora ne garantiscono la genuinità. Perché abbiamo il terreno ottimo per la patata, un terreno sabbioso che dà tutto, tutto per rendere la patata buona. È una produzione ricercata, salutare un consumo importante che crescerà nelle tavole dei cittadini se sapremo anche evidenziare la qualità, la particolarità, la distintività dei prodotti che facciamo sulla nostra terra, come la patata della bassa bresciana. Quest'anno Gottolengo non poteva rinunciare alla sagra della patata e rimodulando la manifestazione si è riusciti a valorizzare l'eccellenza gastronomica del territorio nel segno della tradizione e della ripartenza. È anche una manifestazione per l'orgoglio, per ripartire, per rilanciarci in quella che è una stagione ai noi con tanti incognite, ma sulla quale puntiamo e non rinunciamo a esserci e a valorizzare tutte le fatiche dei nostri allevatori, agricoltori e del sistema Gottolengo. La patata di Gottolengo in cucina assicura piatti gustosi, ne sono testimoni i tanti acquirenti che non hanno perso l'occasione della sagra. Perché vado bene sia arrosto sia fare l'esse, sono buone, che niente dico. Sono buone, genuine e non sono trattate con prodotti antichitocamici, sono naturali. Molto buone, molto, sono per i tortelli, per mangiare così, fare tante belle cose, le torte, i risotti. Grazie. 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 Grazie a tutti.